Ciao a tutti da Manolo di Cocoa.com e oggi parliamo di The China Study di Colin Campbell e Thomas M. Campbell. Prima ancora di iniziare di parlare del China Study, volevo ringraziare tutti quelli che hanno mandato delle mail private, soprattutto dicendomi quali libri vorrebbero vedere commentati, mi fa piacere che qualcuno mi ascolta, come ogni volta che faccio un libro di alimentazione, mi piace indossare la maglietta dell'hamburger, tanto per rimanere in tema e per equalizzare il tema e andare da tutte le parti, e in questo video mi è anche stato fatto notare che ho guardato troppo il monitor e troppo poco la luce, e quindi non sembrava che guardavo in camera, perché effettivamente non stavo guardando in camera. Stavo dicendo, parliamo del China Study, è un libro ormai uscito da un paio d'anni, non ne ho mai parlato tanto perché ha fatto un grande successo online, ne parlano in tantissimi, e quindi ho preferito sempre parlare di libri un po' più nascosti che mi sarebbe piaciuto che invece voi leggeste. Probabilmente molti di voi hanno già incontrato e hanno già letto questo libro, se non l'avete ancora fatto il mio consiglio è di leggerlo e rileggerlo. Dico leggerlo e rileggerlo perché la prima volta che l'ho letto mi era piaciuto, poi ho deciso di rileggerlo ultimamente per fare questa recensione, e mi è piaciuto anche di più. Mi è piaciuto anche di più perché probabilmente la prima volta che l'ho letto avevo come metodo di giudizio questo libro di Valdo Vaccaro, che è Alimentazione Naturale, che è molto bello ma fa un bel po' di terrorismo psicologico, e Il crudo e servito della Giovannini e di Giuseppe Cocca. Molto bello, specie la parte di Cocca, ma è, diciamo, un pochino troppo spinti verso il crudismo, verso il decennarinesimo. Questo libro, Decena Study, invece, si pone da un punto di vista più scientifico, diciamo. Dico sempre scientifico perché non sono un dottore, non sono un medico, e più che leggere quello che scrive, avere la voglia di guardare in una delle, non so quante sono, 50 pagine di biografia, guardate qua, quante pagine di biografia ci sono a sostegno della sua tesi, tutte pagine con link di studi, eccetera, eccetera. Quindi più che fare questo, quindi leggere, provare a applicare, a vedere se effettivamente quello che dice è congruente con il mio sentire, e provare a cercare qualcuno di questi libri non posso fare. Detto questo, il libro mi è piaciuto perché, al contrario di quello che molti credono, non è un libro strettamente pro-vegetarianismo, è un libro molto calato nella realtà americana, dove tendenzialmente, capitolo per capitolo, affronta delle malattie, quindi, e tendenzialmente attacca le proteine di origine animale, dicendo che le proteine di origine vegetale sono molto meglio dal punto di vista salutistico. Dopo i primi 4-5 capitoli, in cui incomincia e spiega le origini dello studio, come ha fatto lo studio, eccetera, eccetera, quindi è molto bello perché è, diciamo, rigoroso dal punto scientifico, incomincia a parlare prima dei problemi di cuore, poi dell'obesità, del diabete, ovviamente il cancro, eccetera, eccetera, e in tutti i casi arriva sempre la stessa conclusione, ovvero che diminuire, dimezzare, ridurre al minimo l'apporto di calorie, proteine, animali, è la chiave di volta per una guarigione o comunque un miglioramento drammatico delle condizioni di salute. Questo, diciamo, è un pochino annoia perché per le prime 200 pagine dice sempre le stesse cose, ovvero, dà un problema, fa uno studio, e dice anche sempre quali sono le correlazioni potenziali, correlazioni effettivamente provate, e poi dice, ok, abbiamo visto che se si consuma il 2%, 3%, 4% di proteine animali, o meglio, negli stati, nelle persone, i settori di persone che consumano questa percentuale di proteine non animali, quindi vegetali, portano dei segni di obesità, diabete, eccetera, eccetera, molto minore rispetto a chi invece ne sta abusando. Lo studio è interessante perché, sì, si chiama China Study, ma è trasversale anche su altre nazioni, ed è interessante anche perché, ovviamente, molti cinesi, poi lo fa anche su dei giapponesi, che hanno delle caratteristiche salutistiche totalmente incredibili per il mondo occidentale, si è notato che quando, che non è una cosa genetica, perché è vero che la genetica, dice, può predisporre a taluna di malattie, però i trigger, quello che attivano queste malattie, è un'alimentazione non corretta. E dicevo, queste persone portate in America, portate in Occidente, spesso hanno gli stessi sintomi di malattia delle persone, diciamo, caucasiche del luogo. Quindi, lui dice che non è un approccio riduzionistico, quindi trovare soltanto una motivazione che fa risolvere tutto, è totalmente sbagliato, perché la somma dei componenti è molto, cioè, il tutto è molto maggiore della somma dei componenti. Questo punto mi è molto piaciuto, così come mi è molto piaciuto le righe dove tira una stoccatina ai vari libri di marketing, in cui parla di un editore che gli ha rifutato il libro, perché non era abbastanza vendibile, non c'era una scaletta dell'auto, quindi passo 1, passo 2, passo 3, o delle ricette particolari per ogni tipo di malattia. La sua risposta è stata, sì, potrei fare delle ricette specifiche per ogni tipo di malattia, o comunque per ogni tipo di sintomo che sto parlando, però se da un punto di vista di marketing sarebbe molto potente, da un punto di vista deontologico non lo sarebbe, perché ho notato che la stessa ricetta, che ripeto, bla bla, sempre la solita percentuale di proteine vegetali, porta miglioramenti su tutto il resto. Quindi, come avete visto, come anch'io sto ripetendo sempre le stesse cose, perché il libro alla fine dice sempre questo. Quello che è interessante è che non è un libro da talebano del veganesimo, del vegetarianesimo, lui totalmente accetta l'uso della carne, anche se ovviamente non la consiglia, è molto più stretto sull'uso del latte, e anzi, gli ultimi capitoli quando parla, sparla e diciamo punta in dito contro il Big Pharma, contro l'industria del cibo, sono decisamente interessanti, perché una cosa è vedere un video, un documentario sulle Big Pharma e su come inquinano le prove, inquinano le nostre menti con il marketing, dall'altra è vedere nomi e cognomi delle persone, ed è facilmente vedibile anche su internet, che sono le stesse persone che danno dell'RDA, quindi le quantità medie giornaliere che una persona dovrebbe assumere di un qualche tipo di nutrimento, poi magicamente queste persone dopo aver fatto questi rapport, automaticamente vengono assunte da qualche Big Pharma, il Big Pharma oppure Big Industry del cibo. Questo a me fa molto pensare, è vero, non si deve pensare male, però anche qua mette sempre il dubbio del dover scavare due volte. Mi ha molto impressionato quanto male, o comunque quanto poco bene faccio il latte e tutti i prodotti derivati dal latte, un po' mi ha influenzato, devo dire, sto prendendo, già prendevo poco yogurt, ma ne sto mangiando ancora meno, probabilmente le industrie caseari non li vogliono bene, però un bel libro. Come al solito ho parlato davvero troppo, sono otto minuti che parlo, il libro mi è piaciuto, diciamo, non so se dargli 5 stelle su 5 perché devi essere un po' pronto a leggerlo, però se vi interessa un libro sull'alimentazione che non sia troppo tirato da uno o dall'altra parte, che parla in maniera abbastanza scientifica, con una bibliografia sterminata, con dei grafici, guardate, così per saziare anche la nostra mente razionale, allora, The China Study è un libro che consiglio, se invece non vi interessa niente di tutto questo, è comunque un libro che potrebbe valere la pena comprare anche soltanto per fare degli esperimenti se volete perdere del peso con calma ma in maniera salutare. Detto questo, Colin Campbell e Thomas Campbell secondo, The China Study, 4 stelle su 5 o addirittura 5 stelle su 5 se siete interessati all'argomento e volete approcciare un'alimentazione più sana o un'alimentazione magari tendenzialmente vegetariana. Detto questo, ciao a tutti da Manolo di Cocoa.com Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!